Harry! Paz! Lu Bellucci! Voglio sentire l'applauso per Emanuele Inglese, grazie! Ho detto applauso! Harry, ci sentiamo, eh? Ok, Lu, facciamo l'applauso anche Lu Bellucci a me, dai, 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 dai! Un cazzo di applauso per Lu Bellucci e Harry Paz, per favore! Grazie, Harry! Ok, questa è Diabolica su M2O, lui è anche l'artefice di Diabolica. Vogliamo ripartire con un applauso a tempo per Emanuele Inglese? Battete il testo e cazzo, rimani a tempo! 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 E taglie, taglie, taglie! E taglie, e taglie! E taglie! E taglie! Le mani al cielo ancora, dai, dai, dai! Questa è la festa d'Italia! Che si celebra qui al Diabolica su M2O, Ciampino, Roma! Vuoi sentire l'uno dei ragazzi che al Pisello in mano? Mamma, quanto ti siete! E taglie! E taglie! E taglie! è love, e's love, e's love Lo becki Lo becki Bello su, bello su, bello su, bello su Diabolica Battete ste cazzo di nami Emanuele Inglese Praticamente qua ogni sabato è il festival dell'House Music Globale Diabolica Energy Quanto amo i miei ragazzi del Diabolica Sirena Mamma mia ragazzi Grazie 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 Grazie